Sono tre città e una unione dei comuni della Toscana candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024 sono Grosseto, l'Unione Comuni Montani, Ammiata Grossetana, Viareggio e Vinci. In tutto sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione di interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo per l'anno 2024, istituito per la prima volta dal Ministro Franceschini nel 2014 con l'obiettivo di incoraggiare e valorizzare l'autonoma capacità progettuale attuativa delle città, facendo leva sul patrimonio culturale a disposizione. Sette le città del centro Italia, sette al nord e dieci tra sud ed isole. Ora tutte le partecipanti dovranno presentare il proprio progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti, dichiara fama nella gestione dei beni culturali. La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra per il periodo di un anno le proprie particolarità.